salve a tutti innanzitutto benvenuti bentornati come sempre invito a iscrivervi lascia un like condividere commentare oggi si torna a parlare di veri mobile neanche ci lavorassi per le veri mobile però vi lascio il link porta un amico perché faccio questo video beh innanzitutto sono passato con veri mobile alla nuova offerta nel senso che la utilizzo come sim di backup però sono passato all'offerta originaria sottoscritta 4 99 30 giga minuti limitati sms limitati a 130 giga minuti limitati sms limitati 7 99 zero spese di attivazione 130 giga e c'è qualcosa in più oltre alla funzione dei riparti che è particolarmente comoda ma c'è anche il raddoppio dei giga per il periodo natalizio come è avvenuto la scorsa estate quindi 260 giga per due mesi dio santo cosa ci dobbiamo fare con tutti quanti questi giga però la mia considerazione viene anche dell'essere una rete particolarmente performante perché mi sono messo la fare un po di spittest soprattutto indoor perché la rete wind 3 è particolarmente performante indoor e udite udite dallo spittest che ho fatto è emesso una velocità fantastica 110 mega in download d'accordo per contratto la velocità massima in upload e in dovrebbe essere massimo 30 mega mentre invece qua parliamo di 110 mega in download è qualcosa di fantastico cioè io lo dico ho fatto il test a mercoliano anche se non ho capito come mi ha geolocalizzato il server a bari a mercoliano o la linea fissa fast web tecnologia mista fibra rame e non va oltre 50 mega in download questo smentisce anche la operatrice di fast web mobile che mi ha contattato qualche giorno fa dicendomi è però le con veri mobile non va oltre 30 mega io detto no vado di più e non mi voleva credere se questo per la trice da napoli che era particolarmente professionale sta vedendo questo video adesso vedrà questo screenshot pensateci se avete particolari esigenze di telefonia mobile considerate veri mobile come una sim di backup